Il mondo oggi è diviso tra capitalismi autoritari e liberali, tra paesi ricchi e poveri, tra nazioni attraversate da guerre e nazioni legate da accordi di cooperazione. Come entreremo nel futuro dopo la pandemia? Inventario del possibile vuol dire ciò che potrebbe accadere, ma anche ciò che vorremmo che accadesse. Tre giornate di analisi, dibattiti e progetti. Parleremo dei protagonisti del cambiamento, i giovani e le donne, dei luoghi, il lavoro e la rete, degli strumenti, la conoscenza e la partecipazione. Tra gli ospiti ci saranno Linda Laura Sabadini, Innocenzo Cipolletta, Jennifer Guerra, Maurizio Ferraris, Chiara Volpato, Giorgio Zanchini, Simona Colarizzi, Colin Crouch ed Enrico Giovannini. Dal 5 al 7 novembre a Modena in streaming, inventario del possibile. La�righ Grazie a tutti.